no ciao a tutti ragazzi sono l'orexd e sono finalmente qua tornato oggi con questo nuovo video un video un po' speciale anche per farmi scusare di questa mancanza video anche di di ieri ma purtroppo sono in un periodo un po' così della scuola vado in una scuola abbastanza difficile un liceo scientifico per chi lo volesse sapere se no poi sicuramente me lo chiedete nei commenti e quindi ho due settimane un po' nere ecco diciamo poi però avrò tempo per fare video più frequentemente di nuovo è un video un po' speciale perché è una nuclear con due una due tacche purtroppo la mia connessione fatta così c'è molti di voi mi avete chiesto che connessione ho così io ho un operatore che è fast web e mi segna lo speed test 13 mega con 40 di ping ora direte caspita è buonissima come fai a dire che fa schifo e non lo so perché diciamo che c'è fa una quattro tacche ci sono degli spicchi alti e poi diventa subito bassa tipo alcune partite non riesco neanche a a muovermi altre c'ho la connessione della mattona e comunque è così e quindi la maggior parte dei gameplay che vedete è quando la connessione mi funziona benino ecco bene quando c'ho tre tacche mentre queste partite qua che faccio comunque non vado in negativo perché riesco a gestirmela solamente che non non vedete molti gameplay con questa connessione perché ovviamente è molto più difficile per questo che ho voluto portarvi questo nuclear è il mio primo nuclear con una connessione come questa spero che vi piaccia è un po' più difficile del solito perché bisogna giocare molto più sulla difensia tutti gli scontri faccia faccia li perderete con una connessione del genere infatti come vedrete arriveranno i colpi in ritardo e è molto difficile infatti rispetto alle altre nuclear è anche un po' più lenta mi scuso per questo ma provateci voi a fare un nuclear con due tacche lasciato comunque vi volevo dire un paio di cose come vedete c'ho la nuova mimetica su quest'arma infatti sono uscite finalmente su ps3 da quattro giorni mi pare le nuove mimetiche che su xbox ovviamente erano uscite prima e mi sono preso la graffiti e la bacon perché purtroppo quelli della trailer che hanno pensato bene di fare in modo che non si possano passare e quindi le ho dovute prendere vabbè tanto costano 1,80 euro niente di che e comunque mi piacevano e questo qua infatti stavo usando la graffiti secondo me è la miglior mimetica perché la bacon la utilizzano tutti ma a me fa anche abbastanza schifo cioè su alcune armi è carina ma la graffiti è bella su tutti la bacon non troppo ecco comunque come vedrete poi mi suiciderò alla fine di questa nuclear io non vado per gun streak ecco io vorrei tanto fare una doppia nuclear qua addirittura ho detto mi sono avanzati 4 minuti di partita ho detto ma perché non provare la doppia nuclear con due tacche cioè proprio paxo e comunque poi vi volevo dire che molti di voi che saranno guardando questo video saranno venuti nel melago do armi sì perché per chi non l'avesse ancora visto lo metto in descrizione è uscito il mio video su melago do armi finalmente pensavo addirittura che non lo ricassero più perché io nel messaggio gli avevo scritto se per favore quando e se lo caricavano di scrivermi se lo caricavano appunto perché almeno io potevo regolarmi un po' ecco se mandarla ad un'altra community oppure se essere tranquillo che la caricassero lì ma probabilmente non hanno molto tempo per rispondere ai messaggi e quindi non mi hanno potuto rispondere comunque sono felicissimo di essere andato lì infatti ho fatto un centinaio di iscritti in più mi hanno fatto anche molti complimenti mi fa piacere mi hanno detto sì di respirare nel video ma perché ero molto nervoso perché quante volte cavolo di volte sto dicendo perché e perché praticamente fare un commentary per il mio canale e farne uno per una community per me è molto più difficile quant'altro fra poco arriverà al nuclear comunque finisco questo discorso perché praticamente io mi sento un po' più a mio agio sul mio canale ovviamente mentre quando sono in un'altra community ho sempre favore di fare una brutta impressione che poi magari non guardano il mio canale mi scrivono commenti offensivi ecco è sempre un qualcosa di più difficile a mio parere e per questo infatti mi sentirete un po' agitato se andate a vedere quel video comunque qua prendo la nuclear tipo ora ok esatto e mi suiciderò ovviamente per provare a farla a doppia come detto prima spero che il video vi sia piaciuto tornerò con un cento più spero domani forse quando ho tempo ecco spero domani perché con un cento più perché un nuclear ecco ve ne sto proponendo un po' troppi e ricordatevi di commentare di iscrivervi se non lo siete ancora di mettermi piace niente ragazzi ho finito ciao a tutti ciao a tutti Grazie.